Il censimento dell'agricoltura è cambiato. Al pari degli altri censimenti, quello delle famiglie, quello sulle imprese, è passato da una cadenza decennale a una cadenza annuale. L'ultima occasione del censimento tradizionale è stato il 2020, svolto dall'Istat in periodo prettamente pandemico è comunque terminato nella sua impostazione metodologica. Adesso il censimento permanente dell'agricoltura prevederà un rilascio annuale dei principali dati strutturali sulle aziende agricole e sulle imprese agricole. Questo perché il Paese ha bisogno di informazioni tempestive e soprattutto dettagliate territorialmente. E questa è una delle domande a cui risponderà appunto il censimento permanente sulle aziende agricole. Però non ci fermiamo qui. Con cadenza invece triennale, quindi non annuale ma triennale, l'Istat realizzerà una serie di indagini anche in rispetto dei regolamenti europei che le prevedono, andando più in profondità sulla struttura delle aziende agricole, approfondendo ad esempio temi quali l'irrigazione oppure la forza lavoro impiegata nelle aziende o ancora il tipo di macchinari utilizzati e l'utilizzo ad esempio del contotersismo. Un'altra indagine che svilupperemo e che stiamo preparando andremo sul campo l'anno prossimo riguarda proprio invece la multiscopo sulle aziende agricole. E in questo caso vorremmo approfondire dei temi più di tipo qualitativo, quindi come l'azienda si pone ad esempio di fronte ai cambiamenti climatici, come l'azienda agricola affronta il tema del biologico, come l'azienda agricola ad esempio utilizza le fonti di irrigazione, come consuma l'acqua, una serie di informazioni che riescano in qualche modo a dare un quadro al pari di quello che l'Istat fa sulle imprese, su come si comportano e che problematiche hanno le aziende agricole nella loro attività corrente. Il settore agricolo è un settore particolarmente caratterizzato da trasformazioni e cambiamenti. Con questa nuova impostazione che l'Istat si è data, cioè integrando i dati di indagine ma anche integrando i dati che provengono dai archivi amministrativi e da altri registri, vuole rispondere proprio a questa necessità informativa che segua in maniera corrente ma anche tempestiva queste trasformazioni che caratterizzano da sempre il settore agricolo. Ricordiamo inoltre che la politica agraria comunitaria, importante per il nostro paese, necessita sempre più di informazioni e indicatori per la valutazione delle politiche.